E' un ragazzo di 27 anni di Albino e ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Bolognini di Seriate a seguito di un incidente stradale che si è verificato ieri sera intorno alle 22 fra via Francesco Crispi e padre Leone Deon, sulla strada che conduce alla frazione di Bondo Petello. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare ma sembra che l'auto abbia sbandato e poi si sia ribaltata. Fondamentale l'intervento dei soccorritori che hanno trovato il ragazzo incosciente e in arresto cardiaco.